E anche in questa partita, indovinate un po', è successo de tutto e de più, ma andiamo per gradi perché la Lazio sta per battere un calcio di rigore che potrebbe permettergli di andare sul punteggio di 1-3, è stato appena espulso Ragneri perché ha la sindrome di Delict, ha fatto Mila e Shiro due cuori nella palla a volo, gli hanno dato la seconda munizione e hanno appunto concesso il calcio di rigore alla Lazio. Qualche episodio un po' particolare, un po' dubbio, diciamoci la verità, adesso ve li descrivo, Immobile potrebbe addirittura fare doppietta e sembra stia litigando con Luisa Alberto per chi deve andare sul dischetto, una situazione di quelle particolari barra esagerate. Passa in vantaggio la Lazio con Correa, subito dopo pareggia la Fiorentina stava di l'Atalanta, assist de Ribery e gol di Chiesa, Federico Chiesa e poi arriva il gol di Ciro Immobile, un bel colpo di testa, però devo fare un paio di appunti. Vediamo chi sta a tirare, non è Immobile, ha tirato Caicedo e Dragoschi ha parato, non è la prima parata che fa, ha fatto un miracolo anche su Luisa Alberto nel primo tempo. Quindi insomma, si resta sul punteggio di 1-2, stavo dicendo a primo tempo, inizio partita, tiro, tra i due litiganti il terzo code, sembrava che dovesse tirare o Immobile o Luisa Alberto, ha tirato Caicedo che ha sbagliato il calcio di rigore. Nel primo tempo all'inizio della partita, ripeto, c'era un rigore secondo me sacrosanto per la Lazio, Lazzari viene atterrato da Caceres in area di rigore, l'arbitro non ha visto assolutamente nulla, arriva, lo ripeto ancora una volta, non mi ricordo se l'ho detto, il gol dell'1-0 di Correa, assist di Ciro Immobile, subito dopo pareggia Federico Chiesa su assist di Ribery, che è giocatore di Ribery anche all'età che ha, è veramente ancora decisivo, ci mette tutta la sua cattiveria, tutta la sua esperienza, tutta la sua rapidità, è un campione in tutti i sensi. E poi però arriva il gol della Lazio, assist di Lukaku per il colpo di testa di Ciro Immobile, ma secondo me c'era fallo di Lukaku sul ripartire dell'azione, quello andava fischiato, certo, dovevano anche fischiare il calcio di rigore per la Lazio, quindi diciamo che gli episodi si vanno alla fine a compensare, però per correttezza è giusto dire le cose come stanno. Io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questa partita, perché il rigore, a parte sbagliato, è appena finita e la Lazio si è portata a casa tre punti importantissimi in ottica quarto posto. Perché la Lazio attualmente si trova a 15 punti e perché si trova a sole due lunghezze dal quarto posto, occupato dal Napoli con 17 punti. Quindi insomma non è facile andare al Franchi a vincere, lo ha dimostrato oggi la Fiorentina, è una squadra ostica, è una squadra che ci mette personalità, è una squadra con calciatori giovani che non hanno paura di nessuno. Quindi sfido chiunque, come già ho detto in un passato video, ad andare al Franchi e ad affrontare la Fiorentina e a portarsi a casa la vittoria in trasferta. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto, domani mattina esce un bel video. Preparatevi, è una cosa che mi chiedevate da tanto tempo e finalmente ho deciso di farla. Se arriveranno tanti mi piace questa serie continuerà per sempre, insomma sicuramente per tutto il campionato. Alla prossima, con un nuovo video, complimenti alla Lazio, perché quando una squadra vince e riesce a portarsi a casa tre punti così importanti, i complimenti vanno sempre fatti. Avesse pareggiato la Fiorentina, alla fine secondo me non sarebbe stata una cosa poi così scandalosa, rigore a parte non concesso alla Lazio, ma poi ripeto, l'episodio del fallo su Sottil del Lukaku, secondo me quel gol non andava convalidato. E Fiorentina che ha fatto la sua partita, assolutamente, però chi butta dentro due palle in rete rispetto alla singola palla in rete buttata là, c'ha sempre ragione. Vabbè, buonanotte.